Una buona giornata cari amici, ben ritrovati. Sta per iniziare questa domenica frezzante di Serie A perché si apre con un confronto salvezza fra Spezia Udinese e poi i colpi più forti arrivano nel corso del pomeriggio. Io vi parlo adesso velocemente di quelli che sono stati gli anticipi, poi devo volare via perché commento la partita forse più bella di giornata. Oggi alle 15 il rematch fra Atalanta e Lazio dopo il mercoledì di Coppa Italia. Alle 18 il Napoli contro il Parma e stasera alle 20.45 il match fra Roma e Della Sverona. È una domenica piuttosto pesante per Napoli e Roma che sono squadre che hanno bisogno di punti per costruire sempre di più la propria posizione Champions ma hanno bisogno soprattutto di darsi delle risposte dopo essersi probabilmente create da sole dei grossi problemi. Per cui è una domenica importante del nostro campionato, ne parleremo ovviamente domani così come vi parlo nei prossimi giorni di quella che è stata la finale clamorosa della Coppa Libertadores che ho commentato ieri sera. Il Palmeiras è campione della Sud America, ha battuto il Santos con un gol al 99esimo minuto di Breno un ragazzo di cui vi racconterò la storia perché era l'eroe meno atteso, è stata un'ottima chiamata dell'allenatore che l'ha messo dentro dalla panchina e ha trovato un grande gol al termine di una partita non indimenticabile sul piano dei contenuti tecnici ma che comunque essendo una finale di Libertadores ci ha regalato le solite curve, le solite pieghe tipiche del calcio sudamericano. Tutto questo per i prossimi giorni. Adesso mi voglio concentrare su quelli che sono stati i quattro anticipi della giornata di Serie A quindi le tre partite del sabato che hanno visto in campo, le tre big mettiamola in questi termini ovvero il Milan capolista che ha passato una prova molto dura a Bologna vincendo 2-1 l'Inter che ha piegato sostanzialmente senza sudare il Benevento 4-0 in mezzo alla Juventus che ha battuto 2-0 la Sampdoria, una vittoria di buon passo della Juve una vittoria che ha mostrato come nella squadra di Pirlo si stiano impiantando sempre più dei punti di riferimento che fanno squadra. Adesso ne parliamo e voglio parlarvi anche di quello che è stato il match inaugurale di questa prima giornata di ritorno ovvero il pareggio fra Torino e Fiorentina di venerdì sera una partita che ha dato più conferme ai Viola che non è Granata e Granata hanno ottenuto il secondo pareggio con la guida di Davide Nicola però continuano a non vincere e continuano a palesare delle carenze che solo il mercato può risolvere ma il Torino sul mercato è clamorosamente in ritardo anche in questa sessione per cui parliamo delle partite che abbiamo visto fin qui aspettando di poterci immergere nei temi della domenica di campionato Inizio dalla vittoria del Milan la vittoria del Milan che mantiene il rosso nero in vetta una vittoria che sembrava poter essere più agevole visto l'approccio e che invece la squadra di Pioli ha dovuto sudarsi fino alla fine perché nessuno poteva pensare nessuno diciamo lucido di mente poteva pensare che la trasferta di Bologna sarebbe stata facile un po' perché arrivava dopo le fatiche del derby di Coppa Italia un po' perché portava al Milan la necessità di reagire dopo la sconfitta in campionato brutta, pesante il primo vero passo falso grave della stagione contro l'Atalanta il Milan ha approcciato molto bene la partita con anche questa scelta di iniziare con Ibraimovic più Rebic e Leao c'era Noglu come sapete si è negativizzato però non era ancora disponibile per il match e io ho visto un Milan aggredire proprio l'avversario e ho voluto fin da subito dimostrare di essere comunque la squadra che comanda la Serie A la stessa squadra che abbiamo visto nel girone d'andata e solo uno Skorupski in forma eccellente ha evitato che il Milan sistemasse la pratica già nei primi minuti perché le parate del portiere del Bologna sono state veramente importanti soprattutto quella doppia fatta da distanza ravvicinata il Milan meritava ampiamente un vantaggio largo nei primi minuti è stata la traversa colpita su punizione da Teo Hernandez ci sono state le solite percussioni di Calabria e il Milan adesso non solo ha un terzino che diventa un attaccante aggiunto ma neanche un altro che è un basamento totale per la squadra perché la partecipazione offensiva di Calabria negli ultimi mesi direi è quasi la ciliegina sulla torta dell'imposizione di questo ragazzo che nell'ultimo anno è cresciuto e che giustamente visto che c'era Mancini in tribuna al Dallara può pensare di essere un elemento da nazionale e gli europei sono sempre più vicini Milan che ha fatto debuttare anche da titolare Tomori prestazione solida, quella del difensore in prestito dal Chelsea ma d'altra parte ne abbiamo parlato è un acquisto intelligente, è un acquisto efficace per il Milan visto che parliamo di un giocatore giovane ma già esperto abituato a un calcio fisico ad alta intensità come quello inglese altra buonissima acquisizione del Milan Tomori lo ha dimostrato subito Milan che poi è andato in vantaggio su un calcio di rigore ancora una volta un calcio di rigore e magari qualcuno andrà a riattizzare una polemica per me assurda il Milan ha tantissimi calci di rigore a favore la maggior parte dei quali mi sembrano legittimi sicuramente lo sono stati i due della partita contro il Bologna il Milan è una squadra che campeggia nell'area di rigore avversaria di conseguenza è abbastanza facile che possa arrivare qualche massima punizione comunque al di là di questo i due rigori sia quello per la trattenuta di Deix su Leao sia quello per il Mani di Sumoro sono stati rigori tanto solari quanto ingenui commessi dalla difesa del Bologna i rigori saranno anche tanti per il Milan ma continuano ad essere un problema per Zlatan Ibrahimovic che ha sbagliato il suo penalty è arrivato Reibic a concretizzare il Tepin vantaggio assolutamente meritato ripeto quello del Milan con il Bologna che ha provato a reagire poi è arrivato il 2-0 nel secondo tempo ancora su un calcio di rigore per il quale è difficile trovare una spiegazione perché la sciocchezza l'ingenuità di Sumoro è veramente grave e lì è andato a tirare che sì e che si è riuscito a sbilanciare Skorupski mettendo il Milan sul 2-0 Milan che però non è riuscito a gestire la partita con tranquillità un po' per lo spirito del Bologna che ancora una volta come era successo nella partita contro la Juventus ha costruito tanto e ha concretizzato molto meno contro la Juventus c'erano stati degli errori e delle buone parate di Scesni contro il Milan c'erano stati i miracoli di Donnarumma che si conferma sempre più il miglior portiere del campionato un valore totale un valore fondante e irrinunciabile di questo Milan la firma di Donnarumma su questa classifica è una firma molto grande che messaggi in cassa Stefano Pioli dalla vittoria di Bologna innanzitutto la reazione della squadra perché in questa corsa serrata visto che iniziamo il girone di ritorno i punti diventano sempre più pesanti nel girone d'andata serviva la costruzione di un'identità di un tipo di gioco di una morfologia di squadra e il Milan lo ha fatto ma lo aveva già fatto dalla parte finale della scorsa stagione adesso in questa corsa bisogna rimanere davanti per cui bisogna mettersi in tasca i punti e questo è fondamentale per il Milan aver ripreso il passo aver vinto una partita difficile a Bologna la cosa ancora più fondamentale e lo risottolineo dopo averlo detto la settimana scorsa adesso è recuperare la piena disponibilità dell'organico soprattutto l'asse di costruzione tecnica Benasser-Chalanoglu Benasser in rientro Chalanoglu anche sarà disponibile per la prossima partita lì il Milan riprenderà dei riferimenti determinanti non solo per la continuità di manovra quella c'è il Milan ha costruito tanto contro il Bologna quanto proprio per avere riferimenti in tema di equilibri in tema di ritorno a dinamiche conosciute che si continua ad essere un giocatore dal rendimento stratosferico ma con Benasser e un Benasser al 100% della forma in fianco può riprendere quei compiti ancora più offensivi ancora più di inserimento che l'hanno reso il centrocampista forse più impattante in assoluto comunque uno dei più impattanti della prima metà di campionato per cui questa è una cosa di cui il Milan ha bisogno può essere può essere un buon fattore il fatto di non dover giocare le due semifinali di Coppa Italia ma di poter tirare un pochino il fiato di poter gestire le forze anche perché poi arriva l'Europa League e il Milan sarà impegnato in infrasettimanale il turno con la Stella Rossa è un turno da rispettare ma non è un turno così complicato c'è la possibilità che il Milan faccia strada per cui almeno queste due partite sono risparmiate anche se io sono convinto che Pioli avrebbe firmato per prendersi anche questo tipo di impegno perché è una semifinale di Coppa Italia è comunque una semifinale di Coppa Italia è un Milan che è un po' meno tranquillo nella gestione della partita rispetto a qualche settimana fa ma è un Milan che ha vinto e questo è l'importante mentre il Bologna ancora una volta morde si mangia le mani perché il Bologna a qualche punto in più in questi impegni illustri e difficili poteva anche portarla a casa fra Juventus e Milan però è un po' il destino della stagione della squadra di Mijailovic che sia una squadra giovane che sia una squadra che si sta completando che sta evolvendo io continuo a vedere delle buone potenzialità in questo progetto tecnico però detto che la stagione è ancora lunga quest'anno c'era forse l'obiettivo il sogno di fare qualcosina in più rispetto a quello che sta dicendo la classifica classifica che mantiene il Milan al comando e mantiene ad un inseguimento serrato le altre due squadre che hanno giocato nel sabato di Serie A due squadre che saranno protagoniste di una semifinale all'arma bianca in Coppa Italia ovvero l'Inter e la Juventus inizio dalla partita della Juventus che ha vinto 2-0 contro la Sampdoria una partita in cui serviva regolarità e la Juventus l'ha data la Sampdoria ha aspettato fondamentalmente ha lasciato la palla alla Juve e la Juve ha saputo cosa farne c'è un messaggio molto chiaro ed importante che sta dando la squadra di Pirlo in questo mese di gennaio in cui la Juventus si giocava tantissimo della propria stagione c'è stato il blackout grave contro l'Inter ma per il resto le risposte sono state tutte affermative la Juventus ha battuto il Milan la Juventus ha battuto il Sassuolo la Juventus ha passato il turno in Coppa Italia vabbè contro la Spal non era molto difficile la Juventus ha ottenuto 4 vittorie consecutive fra tutte le competizioni dopo lo stop contro l'Inter e qual è la cosa più importante della Juve in un momento in cui Cristiano Ronaldo sta chiaramente ricaricando le pile si sta mettendo a punto per il rush finale della stagione infatti non segna da 3 settimane stanno emergendo sempre più dei valori di squadra Pirlo dopo il tempo necessario per lavorare per provare per aggiustare sta trovando delle meccaniche sta trovando sia dei punti di riferimento individuali che dei pezzi di sistema cosa intendo Chiesa è un punto di riferimento di questa Juventus Chiesa ha aperto il punteggio suo assist di Morata e ancora una volta si è vista l'importanza di avere il numero 9 di avere Morata per arrivare alla profondità all'interno dell'area di rigore il suo movimento è determinante lui riceve trova profondità dentro l'area e allora poi può servire il pallone per il gol di Chiesa ma Chiesa come figura è quella che si è imposta maggiormente fin da subito con una continuità anche ottimamente produttiva dal mercato estivo il mercato estivo è stato un mercato molto importante da parte della Juventus che ha investito parecchio che ha preso giocatori pesanti ha preso Chiesa ha preso Kulusevski su un'operazione già imbastita prima ha preso Artur ha preso McKennie ha preso Morata 5 nomi del genere non li ha portati in rosa nessuno in Serie A per questo io continuo a dirvi che a me sembra indiscutibilmente la squadra più forte e la squadra che deve essere favorita per la conquista dello scudetto proprio per per i valori che può presentare ecco Chiesa indubbiamente ha dato una dimostrazione molto chiara è un giocatore da Juventus è un giocatore da questo tipo di livello oltretutto ha giocato una buonissima partita anche partendo dall'altro lato perché poi si discute su quale sia la fascia migliore per Chiesa io sono del partito che la fascia di Chiesa sia la fascia destra anche per un discorso di ricerca di un certo tipo di situazioni che lo vedono favorito se gioca a destra è un discorso peraltro che ho fatto con un match analyst di ottimo livello Alessia che conoscete tutti in un video che uscirà lunedì sulla sezione premium del nostro canale abbiamo parlato nello specifico anche di come Chiesa renda da una parte e possa rendere dall'altra però la risposta contro la Sampdoria è stato un gol è stata una partita ancora una volta molto attiva perché Chiesa viene dentro al campo partendo da sinistra scompaginando le linee e oltre ad avere quella capacità innata e preziosissima di saltare l'uomo è anche uno che sta crescendo dal punto di vista dell'associazione del gioco della creatività della capacità di essere anche più fine con la palla fra i piedi e poi fa gol fa gol in momenti determinanti Chiesa per cui una menzione la merita assolutamente detto che sì Cristiano Ronaldo non sta segnando ma è comunque sempre un grande pericolo si è infilato diverse volte verticalmente ha iniziato l'azione del 2-0 con un cambio di campo che può sembrare normale ma è normale solo per uno come lui e sull'azione del 2-0 segnato da Ramsey a tempo scaduto che ha evitato dei pensieri insomma dei pattimenti nel finale arrivo all'altro elemento cardinale della Juventus ma questa non è una scoperta questo lo è sempre stato ed è Juan Quadrado l'autore dell'assist per Ramsey Quadrado e ve lo dico dall'inizio della stagione un vero elemento irrinunciabile la Juventus parte dalla onnipresenza di Quadrado sulla fascia destra giocatore che oltretutto ha aumentato molto anche le proprie capacità difensive ma è un giocatore tattico un giocatore di intensità è un giocatore tecnico perché poi la lucidità di trovarti lì al novantesimo minuto quasi di rinunciare alla gloria personale per fare il bene della squadra servire questo pallone in mezzo farlo con grande precisione Quadrado sta diventando veramente è diventato ormai uno dei laterali destri di riferimento nel panorama mondiale ma poi la cosa di sistema ripeto il pezzo assemblato che in questo momento deve avere riflettori almeno a livello di osservazione e di giudizio è il centrocampo perché quante volte abbiamo detto nella prima parte di stagione che la Juventus si trovava Ronaldo davanti che risolveva le cose o Morata la Juventus faceva anche qualche buona prova difensiva ma doveva trovare la propria identità nello sviluppo di un centrocampo stabile ecco Pirlo ci sta dicendo qual è la chiave del centrocampo della Juventus ed è questo terzetto che è il terzetto che ci si poteva aspettare la grande sorpresa rimane McKennie giocatore che aveva dimostrato i propri valori ma che non ci si aspettava forse fino in fondo a questo livello di impatto sia agonistico che tecnico in Serie A in una squadra del genere quello che adesso sta cominciando a funzionare è l'asse che tutti attendevamo ovvero la coppia formata da Artur e Bentancur Artur comincia ad impiantarsi e come vi dico dall'inizio avere Artur dentro collegato e perfettamente funzionanti in una squadra vuol dire avere un centrocampista che te la fa girare che il pallone lo prende che il pallone lo tiene che il pallone lo gestisce con grandissima precisione manca sempre il lancio lungo ad Artur non appartiene alle sue caratteristiche ma non è una cosa così fondamentale perché la palla comunque arriva anche in modo diretto l'abbiamo vista contro la Sampdoria ci sono difensori che possono impostare ci sono altri centrocampisti che possono dare questo tipo di pallone Artur è il regista Artur è la mente e Artur comincia a stare bene comincia a giocare con continuità sui suoi livelli così come stiamo rivedendo Bentancur avvicinarsi al livello della scorsa stagione e non l'avevamo mai fatto nei primi mesi di stagione questo blocco motore diciamo McKennie Artur Bentancur è il cuore della Juventus che poi sviluppa tutti i propri arti Chiesa Quadrado Cristiano Ronaldo Morata si sta attendendo il ritorno di Dybala abbiamo visto un Kulusevski interessante nel ruolo di seconda punta ma il blocco motore deve essere questo e Pirlo lo ha piazzato all'interno del cofano della sua macchina ha fatto i collegamenti adesso sta cominciando a girare detto che va segnalata nella partita di Marassi anche la prova gladiatoria di Chiellini e questo è soprattutto un merito una medaglia da mettere sul petto di un grandioso difensore della storia del calcio italiano della storia recente che non si è dato per vinto che è passato attraverso tante difficoltà e che ieri ha dato una mano determinante alla Juve che all'interno di una partita in cui sicuramente i tre punti sono importanti e i riscontri sono positivi continua ad avere questa sensazione di non totale impermeabilità la Juve rischia sempre all'interno della partita lo ha fatto contro il Bologna lo ha fatto contro contro la Sampdoria nella partita di ieri e Chiellini ha risolto tante situazioni perché nel momento in cui la Sampdoria si è messa a giocare questa partita che non ha visto i blucerchiati molto protagonisti infatti ho sentito anche Ranieri non particolarmente soddisfatto nel post-gara la Sampdoria è arrivata a minacciare Chiellini è stato superlativo e ha permesso alla Juventus di uscire da Marassi anche senza gol subiti per cui per la Juve questi riscontri importanti mentre passando all'Inter una partita resa molto agevole dal fatto di averla sbloccata subito con quella punizione di Eriksen deviata in porta da Improta e poi fatta fuori dal ruggito della coppia d'attacco mancava da un pochino la prestazione martellante dei due interpreti offensivi di Antonio Conte che non c'era ovviamente squalificato la squadra la guidata Stellini e sono arrivati Lukaku ha chiuso il 4-0 con una doppietta in cui ho visto anche un po' di malumore non verso qualcuno in particolare ma credo verso la situazione che l'ho visto protagonista nel corso della settimana però sono arrivati altri due gol di Romelu Lukaku che continua a far salire il proprio conto ed è arrivato anche il gol per Lautaro Lautaro che ha giocato un'altra partita attiva ha sbagliato ancora qualcosa in area di rigore si era procurato forse un penalty nel corso del primo tempo è procurato quell'episodio del contatto a filo di linea che rimane che rimane veramente al limite non è stato giudicato in area di rigore credo perché l'impatto non sia stato sul piede ma sullo stinco sulla gamba che poteva essere leggermente fuori però insomma quella è una valutazione veramente ai limiti dell'impossibile non potrà mai mettere d'accordo tutti così l'ha decisa il VAR 4-0 per l'Inter il Benevento semplicemente non gli è stato permesso di scendere in campo a San Siro e di questa partita ovviamente anche in questo caso lo sto sottolineando ma comincia ad essere veramente così contano i punti per i nerazzurri dal punto di vista invece tecnico anche in questo caso farò sul centrocampo perché il centrocampo è l'anima è il cuore è la mente è l'etichetta è il biglietto da visita di una squadra che vuole vincere e la grande novità in mezzo al campo è la presenza forse tardiva ma comunque la presenza di Eriksen in questo nuovo ruolo di play anche perché la totalità di Barella ormai non fa quasi più notizia ve ne ho parlato nel corso della settimana Barella ha giocato un'altra partita a 360 gradi turbinante giocatore veramente entusiasmante oltre che preziosissimo perché vale per due ma il fatto che Conte abbia trovato non voglio dire si sia convinto anche se insomma la sua dichiarazione di non moltissimo tempo fa Eriksen lì non ci può giocare è una dichiarazione che rimane ma indubbiamente Conte ha trovato il modo per poterlo coinvolgere in questa posizione visto che non crede e questo è chiaro a Eriksen nel suo ruolo originario di trequartista o di mezzala offensiva era fondamentale per l'Inter trovare prima di tutto un'alternativa a Brozovic per permettergli di rifiatare perché Brozovic per me rimane un giocatore molto importante per l'Inter non è vero non è assolutamente vero che Brozovic è solo il registino basso che fa il passaggio orizzontale o che cerca la giocata semplice Brozovic è un ottimo organizzatore di gioco è una mente importante però è anche l'unico che non ha nessun tipo di ricambio e Eriksen in questi panni in una partita come quella col Benevento che ovviamente aveva caratteristiche particolari non saranno così le gare principali della seconda parte di stagione dell'Inter a partire dalla semifinale contro la Juventus però Eriksen in quella zona può cominciare quantomeno a sciogliersi e allora Eriksen ha trovato il gol su punizione contro il Milan in Coppa Italia Eriksen ha propiziato il gol su punizione contro il Benevento in campionato punizioni che tornano ad essere un'arma efficace per l'Inter dopo anni in cui di gol su punizione diretta non ne arrivavano Eriksen lì si sta cominciando a ricordare cosa vuol dire essere protagonista sul campo in una posizione differente poi sono convintissimo che a livello ideale Eriksen sia un giocatore da sfruttare più avanti per quelle che sono le sue capacità inventive per quelle che sono anche le sue soluzioni però un po' Conte non lo vede e un po' lui obiettivamente non ha fornito delle prove che potessero corroborare molto la sua candidatura come elemento importante dell'Inter sulla tre quarti così comincia ad avere dello spazio e Eriksen è uno che chiaramente ha bisogno di prendere fiducia ha bisogno di arrabbiarsi un po' per questa situazione che lo ha visto coinvolto ha bisogno di tirare fuori se stesso perché è indiscutibile la capacità calcistica di Christian Eriksen in questa posizione sta dando una mano alla squadra e forse sta dando una mano anche un po' a se stesso vedremo se avrà a continuità questo esperimento nel frattempo se l'Inter recupera Eriksen anche non al 100% ma a un 70-80% fa un colpo di mercato pazzesco più ancora di quello che potrebbe essere lo scambio fra Gekko e Alexis Sanchez non ve ne ho parlato mai è una cosa che continuo a considerare poco finché non lo vedrò non ci crederò e non sono per nulla sicuro di vederlo perché sarebbe per l'Inter un colpo geniale e per la Roma sarebbe un vero e proprio Arachiri però ripeto è una situazione che sicuramente non è inventata perché delle cose che si sono mosse ci sono state però la vedo troppo lontana da una logica comune per poter essere una cosa vera e poi ci sono anche delle ve lo stanno raccontando chi racconta al mercato delle problematiche piuttosto nette a livello di far quadrare i conti anche perché l'Inter vive una fase che ben conosciamo ma al di là di questo inciso vittoria per 4-0 doppietta di Lukaku gol di Lautaro Eriksen finalmente vivo in questa squadra e la marcia continua detto che adesso arriva veramente una doppia semifinale con la Juventus da temperature alte sono partite che non vedo l'ora di poter vivere osservare e di potervi anche raccontare commentandole con voi manca da commentare l'anticipo del venerdì l'1-1 fra Torino e Fiorentina un'altra partita che ho seguito attentamente che attendevo perché la vedevo come una sorta di spartiacque là sotto per capire se il Torino aveva effettivamente trovato una svolta immediata con l'arrivo di Nicola e direi che in questo senso qualcosa è cambiato perché è una squadra più affamata con un po' più di spirito più forse anche messa di fronte alle proprie responsabilità perché la reazione che c'è stata contro il Benevento e la rincorsa trovata anche contro la Fiorentina per non perdere la partita sono dei segnali che ha dato questa squadra poi però se parliamo di segnali globali continuino a vedere cose molto preoccupanti nella realtà del Torino dall'altra parte si cercava di capire se la Fiorentina si fosse davvero tirata fuori dai guai che hanno caratterizzato la maggior parte della prima metà di campionato e anche in questo caso la risposta è abbastanza affermativa non del tutto perché la Fiorentina avrebbe dato una sgasata forse già decisiva vincendola nella partita di Torino ed è andata in vantaggio poi però non averla persa rimanendo in 9 contro 11 è comunque un segnale come vi dicevo la Fiorentina ha cominciato a mettersi veramente in moto quando ha cominciato a vincere le partite che doveva vincere gli scontri diretti le gare contro le squadre della sua porzione di classifica ha fatto 7 punti in 3 gare contro concorrenti diretti nei tempi recenti penso che possano andare bene poi la partita contro il Torino è stata chiaramente segnata da quelli che sono stati episodi arbitrali come sapete ne parlo poco anche qua li sfioro la Fiorentina è rimasta in 9 sacrosanto il rosso a Castrovilli perché era chiara occasione da gol l'arbitro inizialmente lo aveva ammonito poi al VAR è stato richiamato e ha espulso il numero 10 viola molto meno netto invece il rosso per Milenkovic che ha lasciato la Fiorentina in 9 Belotti esagera e non è mai bello vedere un giocatore esagerare in questo modo però il gesto di Milenkovic è un gesto sciocco non hai bisogno di mettere la testa contro la testa di un avversario perché ti esponi ad un eccesso di severità che c'è stato ma ti esponi a questa situazione detto che in una stagione molto positiva l'arbitro di Bello ha sbagliato tante cose quella dell'esposizione di Milenkovic è stata una sbavatura grave così come l'è stata quella del primo tempo perché c'era un rigore chiaro per il Torino quasi laccio californiano di Drongovski in uscita su Lukic non ricordo male e la cosa un po' sconcertante e poi chiudo veramente la questione arbitrale perché sapete come mi rapporto la cosa abbastanza sconcertante è che al Torino nella partita scorsa contro il Benevento era stato fischiato contro un rigore ancor meno chiaro in questa dinamica per il fallo di Sirigu sulla Padula la palla se n'era già andata mentre nella partita con la Fiorentina la palla era ancora lì e il fatto che una domenica o un venerdì ti fischino contro un rigore in questi termini e il venerdì dopo non te lo diano in termini equivalenti rimane uno di quegli aspetti che si continuano a faticare a comprendere nelle decisioni arbitrali nell'interpretazione del regolamento per cui la serata è stata difficile per il direttore di gara detto questo e parlando di calcio in casa Fiorentina ci sono delle cose importanti da segnalare si è vista si è vista la differenza di valore di squadra di valore di espressione fra i Viola e i Granata e si è vista nello sviluppo della partita la Fiorentina sta crescendo perché comincia a gonfiarsi a centro campo Amrabat si è innestato Amrabat comincia a tornare ad essere vicino allo strabiliante Amrabat dell'anno scorso a Verona soprattutto si è stabilita questa connessione tecnica fra Bonaventura e Ribéry l'azione del gol è un'azione artistica che in una squadra chiaramente diventa preponderante diventa determinante Bonaventura nei primi due terzi o forse anche tre quarti del girone di andata non è stato molto positivo partite un po' difficoltose in un centrocampo che cercava un'identità adesso l'identità l'ha trovata e Bonaventura nella partita scorsa ha trovato il suo primo gol in campionato in quella col Torino ha trovato l'assist per Ribéry una connection fra due giocatori del calibro di Bonaventura e Ribéry è una connection che ti cambia la squadra poi Vlovic si è sempre ha colpito un palo gli è stato anche annullato un gol ha trovato un centravanti credibile la Fiorentina in Vlovic arriverà Cocorini sono curioso Cocorini è un giocatore con delle possibilità enormi a livello calcistico ma anche con una mentalità un po' particolare vediamo come si impianta in questa squadra nel frattempo per Prandelli il messaggio è importante perché la Fiorentina nella prima mezz'ora di gioco ha gestito la partita quasi con la sigaretta in bocca e poi è riuscita a difendersi ad andare in vantaggio in inferiorità numerica e a non concedere al Torino di ribaltare completamente la partita nonostante una gara di Serie A a questo livello in 9 contro 11 sia quasi una missione impossibile la differenza si è vista perché il Torino invece questo tipo di capacità di fare la partita con i propri centrocampisti con le proprie costruzioni non ce l'ha non ce l'ha avuta in questa partita e non ce l'avrà mai con questo tipo di rosa perché poi cambia l'allenatore va via Gianpaolo arriva Nicola che è un allenatore molto buono in questo momento per il Torino perché è uno che conosce l'ambiente perché è uno che può portare tanto spirito perché è uno che carica la squadra e questa carica si vede però quel che continua ad essere un bisogno lampante del Torino è di cambiare volta a centrocampo perché poi non ci si può stupire del fatto che il Torino non riesca a fare gol e faccia 0-0 in casa contro lo Spezia giocando 80 e rotti minuti in superiorità numerica e arrivi a strappare affannosamente di rincorsa un 1-1 con la Fiorentina giocando in una ventina in doppia superiorità numerica il Torino ha ritrovato il gol di Belotti che era molto importante ma Belotti non è mai mancato sì non ha segnato per sette partite però ha fatto segnare tutti gli altri Belotti è un giocatore sempre più totale Belotti è il Torino in questo momento però sì delle occasioni ci sono state Zazia ha colpito un'incrocio dei pali nel primo tempo Singo ha colpito una traversa nel secondo ci sono state delle situazioni ma il Torino veramente ha giocato 20 minuti in 11 contro 9 e quella prima in casa aveva fatto 0-0 appunto con lo Spezia con un'espulsione all'ottavo minuto questi sono campanelli d'allarme che è incredibile incredibile come non vengano interpretati e stanno proprio lì in quella cosa che vi segnalo fin dall'anno scorso la carenza di qualità nel reparto di centrocampo del Torino dove non ci sono giocatori adesso sta rientrando Baselli qualcosina si sta vedendo voglio dire è un giocatore reduce da quasi un anno di inattività per infortunio ed è un giocatore che nella sua lunga militanza granata sia avuto momenti di fulgore ma anche dei momenti più difficili anche se penso che appunto in questo scenario tecnico Baselli sia veramente un ancora da cercare di buttare per affrancarsi ma ora arriverà Sanabria al Torino che è un buon acquisto che perché è un giocatore forte Sanabria che non si è mai espresso fino in fondo ma che con Bellotti può formare una buona coppia detto che in questo momento Zazza sta rendendo più o meno anche se poi i gol sbagliati da Zazza sono sempre abbastanza numerosi perché la traversa si è sfortunata però quella è una situazione in cui un attaccante pesante un attaccante che incide deve fare gol Sanabria comunque mi sembra una buona lettura ma io continuo arriva a dire la necessità impellente estrema incredibilmente ignorata fin qui di migliorare il livello qualitativo del centrocampo non dovessero arrivare a questo punto nelle ultime ore di mercato dei centrocampisti impattanti tecnicamente io credo che il Torino al di là dello spirito al di là degli allenatori al di là delle situazioni che si possano creare difficilmente cambierà la propria dimensione all'interno della classifica bene è tempo di salutarvi perché sta iniziando la giornata e per me arriva un impegno veramente molto gustoso a Taranta Lazio la commento oggi pomeriggio e domani ci rivediamo per parlare di tutto quello che ci ha portato questa domenica di Serie A sempre qui insieme sul nostro canale vi aspetto prestissimo